Va via una settimana difficile per il calcio terramano. La prossima, se possibile, ne sarà una sul filo del rasoio. Soprattutto saranno due le giornate chiave, quella di mercoledì 17 e quella di venerdì 19. Sono i due giorni dove il direttore sportivo del Teramo, Marcello Di Giuseppe, e il presidente Luciano Campitelli saranno a Catanzaro per rispondere alle domande degli inquirenti sulla vicenda della partita Savona-Teramo. Di Giuseppe sarà accompagnato dall'avvocato Libera D'Amelio, Campitelli dall'avvocato Renato Borzone. Molto probabilmente i due seguiranno due linee difensive differenti, con Di Giuseppe che valuterà, come annunciato dalla D'Amelio, se rispondere alle domande oppure no, mentre Campitelli parlerà. Parlerà e come il presidente Biancorosso, che continua a rivendicare la totale stranità alla vicenda. E non è cosa di poco conto. Molto probabilmente Campitelli chiederà anche di sentire le intercettazioni telefoniche che lo riguarderebbero, perché per lui sono inesistenti. Da gennaio non parlo con Ercole Di Nicola, confidato, e non mi è mai venuto in mente di truccare una partita. Queste parole le ha anche ripetute ai tifosi che ieri sera hanno voluto incontrarlo per avere le idee più chiare. Campitelli, dopo due giorni di smarrimento, ha ripreso a lavorare per la squadra. Tanto è vero che domani potrebbe arrivare un acquisto importante, quello di un centrocampista, che se la trattativa andrà in porto sarà annunciato lunedì. Il mercato del Teramo è tutt'altro che fermo, dunque. Ci sarà da valutare anche le carte che i magistrati di Catanzaro invieranno alla Procura federale. Il procuratore Stefano Palazzi non ha molto tempo per valutarle e sotto questo punto di vista il fattore tempo gioca a favore del Teramo. Certo, il calcio ci ha abituato a decisioni anche dell'ultimo istante, ma qui ci sono situazioni che potrebbero anche essere chiarite subito. Se come sostiene Campitelli non esiste nessuna intercettazione che lo riguarda, il Teramo come società sarebbe salva. Infatti va ricordato che solo il coinvolgimento diretto del presidente o del rappresentante legale porterebbe a decisioni nei confronti della società. D'altra parte potrebbe anche trattarsi di pura e semplice millanteria. Non sarebbe sufficiente infatti che qualcuno, per telefono, avesse detto di avere il mandato di Campitelli per comprare una partita. Se non esistono prove a confermarlo, l'accusa cadrebbe. Venerdì comunque tutti avremo le idee più chiare, soprattutto gli inquirenti e lo stesso Campitelli.